Bisogna difendere il nostro governo italiano, io qui sono italiana e difendo questo governo anche se non ne faccio parte. Il governo ha chiuso i porti, certo, è facile parlare da quei banchi di solidarietà di Europa con i porti degli altri, perché non si aprono i porti anche di fronte a donne, anche di fronte a bambini, come è stato fatto da parte della Francia, da parte della Spagna. Allora abbiamo un regolamento di Dublino, io avevo un intervento che ho tolto, eliminato, non lo voglio più fare, ma parliamo di un momento precedente, parliamo anche della creazione di hotspot nei paesi di transito, in Libia, in Tunisia, parliamo del coordinamento che ci deve essere a livello europeo degli sbarchi e dare all'Europa, cosa che ancora non ha, un'esatta valutazione degli strumenti per vedere se un paese è o no in forte pressione. Questo si deve fare, perché Dublino, se vogliamo, già cade in un momento successivo. Quindi non facciamo degli insulti a paesi che si sono fatto carico del lavoro sporco dell'Europa. Sciacquatevi la bocca quando parlate dell'Italia. Ringrazio.